Il Verbagna torna con un punto importante per la classifica e per il morale dallo stadio porta Elisa Di Lucca una dei più affascinanti di tutta la serie di un risultato quello di 1 a 1 sostanzialmente giusto tra i rossoneri padroni di casa e i bianco cerchiati bianco cerchiarchi dopo aver costruito una buona chance nel corso del primo tempo trovano il vantaggio con Austoni che di testa si fa trovare è pronto ed in sacca lo 0 a 1 la reazione della Lucchese è immediata ci pensa Fazzi con una bellissima deviazione al volo su cross proveniente dalla sinistra a ripristinare il pareggio prima della chiusura del primo tempo il secondo tempo non regala grandi emozioni i locali ci provano in un paio di circostanze con tiri dalla lunga distanza su cui però è sempre attento l'estremo difensore del Verbagna russo Verbagna che dunque torna a casa con il quarto risultato utile consecutivo sono sei i punti conquistati dai ragazzi di Galeazzi nelle ultime quattro giornate